Gli over 80 ospiti RSA e over 60 fragili che hanno ricevuto già il secondo booster possono fare la quinta dose di vaccino anti-covid dopo 120 giorni dall'ultima o dalla malattia. Questo quanto contenuto nella nuova circolare del Ministero della Salute che stabilisce che la somministrazione può avvenire in concomitanza con altri vaccini, con l'eccezione di quello contro il vaiolo delle scimmie da effettuare a distanza di almeno 4 settimane. La nuova indicazione è legata all'attuale quadro epidemiologico in cui è aumentata la circolazione del virus e l'RT è sopra la soglia epidemica. Grazie